Oltre 530 milioni nel mondo, circa 60 milioni in Europa, oltre 3 milioni e mezzo in Italia, sono questi i dati relativi agli adulti affetti da diabete, numeri destinati a crescere, si stima infatti che nel 2030 nel mondo ci saranno 640 milioni di persone colpite da questa malattia cronica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità identifica il diabete come priorità globale per tutti i sistemi sanitari e insieme all'International Diabetes Federation ha istituito nel 1991 la giornata mondiale adesso dedicata, fissandola nel calendario, il 14 novembre di ogni anno. Una giornata organizzata per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica sul diabete ma anche sulla sua prevenzione e gestione. Diverse le iniziative svolte in occasione della 31esima giornata internazionale, dalla Fiera della Tecnologia per la cura della malattia con screening gratuito tenutasi sabato a Palazzo Comitini a Palermo, all'inaugurazione della panchina blu in piazza Marconi, svolta nella giornata di ieri a Catena Nuova nell'Ennese, anche in questo caso con possibilità di screening, sensibile alla tematica anche il comune di Motta Sant'Anastasia che questa sera illuminerà di blu il suo castello.